Monjana è un borgo delle serre Calabre conosciuto per il parco biogenetico di Villa Vittoria e per essere stato sede dal 1771 delle reali ferrieri borboniche. Questo peculiare paesaggio culturale sta portando Monjana e l'importante percorso siderurgico calabrese alla ribalta nazionale e non solo. Gli sforzi delle varie amministrazioni comunali, in particolare di quella attuale guidata dal sindaco Bruno Iorfida, hanno posto Monjana, ma anche l'intero territorio dei centri limitrofi legati tra di loro dalla filiera del ferro, all'attenzione della regione e di varie istituzioni culturali nazionali e mondiali. Monjana da tempo è sotto osservazione del club dei borghi più belli d'Italia, che a giorni effettuerà una visita ispettiva per essere inclusa nella cerchia dei borghi più belli. Per tale motivo si è tenuta a Monjana un incontro di lavoro per porre le basi a una programmazione integrata, finalizzata a un progetto di valorizzazione nazionale ed internazionale. All'incontro organizzato dal sindaco Iorfida hanno partecipato il dottor Giuseppe Pellegrino, commissario del Parco delle Serre, la dottoressa Patrizia Nardi, esperta in valorizzazione del patrimonio culturale e candidatura UNESCO, già titolare di importanti progetti UNESCO, l'architetto Antonio Monte, vicepresidente dell'Associazione Italiana per l'Arcologia Industriale e il professor Danilo Franco, che ha collaborato come esperto al restauro dello stabilimento siderurgico di Monjana. Ma sentiamo qualche passaggio di poco tempo fa sulle ferriere e Monjana. Siamo nella fonderia di Monjana, o meglio quella che era la fonderia di Monjana, che oggi ritorna ad essere fonderia. Noi non avevamo coscienza né percezione di quello che si andava a trovare durante l'effettuazione di uno scavo archeologico. Invece la sorpresa, eccola qui. Siamo proprio davanti a un forno fusore di Monjana, probabilmente era il Sant'Antonio, che era il tipico forno all'italiana, con una forma di un parallelepipedo alto a 11 metri, all'interno del quale c'era il vero cuore della fonderia, che era costituito dal crogiolo, dal tino, dal ventre e poi dalla bocca di carico in alto. Non pensavamo proprio di trovare una cosa del genere. Questo porta Monjana ad essere proprio come un esempio tipico dell'Inghilterra, dove un alto forno similare a quello che Abram Derby fece fondere per la prima volta il ferro con il Cabaron Cook, gli inglesi lo hanno trovato e nella patria dell'archeologia industriale, della rivoluzione industriale, lo hanno coperto proprio con una piramide in cristallo. Una ricchezza sta avvenendo fuori qui a Monjana, nel sito di archeologia industriale, nelle ferrieri. Allora si può dire veramente, quando Monjana era il nord? Certo, Monjana sta rinascendo dalle proprie generi, sta rinascendo appunto questo polo straordinario, questo reperto eccezionale, unico, se non dire in Europa, nel mondo, per quello che appunto è stato ritrovato e riscoperto. Questo appunto rappresenta il nostro punto di partenza, rappresenta proprio il punto di svolta di una ricerca che dura da diversi anni, soprattutto con la collaborazione del professor Danilo Franco e degli altri collaboratori che abbiamo avuto nel tempo, ma soprattutto questo corona il sogno mio personale appunto di vedere finalmente delle opere riportate alla luce, degli scavi archeologici fatti in maniera molto precisa e puntuale, seguiti in maniera eccellente anche, e non solo. E questo permetterà di sviluppare quello che è il turismo delle nostre zone, il turismo interno, montano, ma soprattutto di far diventare sempre di più Mongiana, il centro nevralgico delle serre, ma non solo delle serre, anche dell'intera nazione, per quanto riguarda l'archeologia industriale di questo calibro. Nei prossimi giorni, fatte le dovute verifiche, si darà corso alla prima stesura delle linee guida del progetto che consentirà a Mongiana di entrare nei circuiti di attenzione e soprattutto di sviluppare contesti progettuali che garantiscano la sostenibilità e il rispetto del territorio. Grazie per la visione!